Ho già manifestato la mia parziale delusione per una via della seta evidentemente ridimensionata. E ridimensionata per non irritare i nostri partner europei e gli Stati Uniti. O sarebbe meglio dire la Nato. Io spero che questo sia stato solo un comportamento di facciata del nostro governo e che invece nella realtà apra, anzi spalanchi le porte alla Cina e alla nuova via della seta. Un'occasione unica per far tornare il nostro paese protagonista a livello planetario. Perché vedete io aspettavo con impazienza questa firma. Perché la vedevo come un test per il nostro governo. Una prova di maturità del governo gialloverde. che doveva dimostrare al mondo intero che le cose in Italia erano davvero cambiate. Che l'Italia adesso poteva andare in giro a testa alta. Rispettosa di tutti ma paurosa di nessuno. E così sognavo che dopo una firma del genere il governo avesse il coraggio di prendere una decisione eclatante. ossia a quella di annunciare a tutto il mondo che non avrebbe più rispettato le sanzioni alla Russia. Sanzioni che penalizzano enormemente il nostro paese. Ma più delle conseguenze economiche, del danno economico derivante dalle sanzioni, io ritengo che queste sanzioni alla Russia siano per l'Italia un qualcosa di umiliante. Sì, uso il termine umiliante. Perché, vedete, non penso esista un solo italiano favorevole alle sanzioni alla Russia. Allora perché le applichiamo? Le applichiamo perché siamo dei sudditi. E i sudditi obbediscono al loro padrone anche quando quest'ultimo gli dà degli ordini che vanno a loro discapito. E allora così so che è una cosa impossibile ma facciamo una specie di testa fra di noi. Vi chiedo, a margine di questo video utilizzate lo spazio dei commenti di rispondere a una mia domanda. Ecco, voglio porvi la domanda in maniera precisa. Cosa accadrebbe se il Presidente del Consiglio italiano presentandosi davanti alle telecamere annunciasse che l'Italia si dissocia dalle sanzioni nei confronti della Russia e quindi autorizzasse tutte le aziende ad esportare i loro beni nel paese di Putin? Attendo le vostre risposte. Ma utilizzo anche quest'ultima parte del video così per annunciarvi anche che in base alle vostre richieste che sono state veramente tantissime vi preannuncio appunto che domani farò un video di carattere finanziario. non pensavo che molti di voi rispondeste in questa maniera alla sollecitazione che vi ho fatto ieri. Quindi domani vi parlerò appunto delle conseguenze che potrà avere questa inversione della curva dei rendimenti negli Stati Uniti. e certamente dopo questo primo video di carattere finanziario ne farò altri però vi preannuncio subito una cosa. Io so già che quando parlerò di questi temi, dei temi finanziari non mi troverò d'accordo con molti di voi semplicemente perché in questo campo io ho delle visioni un po' singolari mettiamole così molto distanti dagli economisti classici ma anche distanti da quelle teorie economiche abbastanza chiamiamole moderne che vanno molto in voga di questi tempi sul web. Vi chiedo quindi di approcciarvi ai miei video non con dei preconcetti ma cercando appunto di così sfruttarli un po' come occasioni per dibattere dei temi che vi assicuro sono molto importanti e hanno delle ricadute proprio sulla nostra vita quotidiana. Un'ultimissima cosa ma importantissima stamattina assieme a Carlo Savegnago per il vaso di Pandora abbiamo registrato una trasmissione ospite il dottor Lombardini che oramai molti di voi conoscono persona esperta in politica internazionale. Ebbene il dottor Lombardini ci ha stupito ancora una volta dandoci delle notizie veramente eclatanti e che ovviamente non trovate sui media nazionali ma neanche sui vari canali social. Quindi vi consiglio tanto di guardare la prima pilola che andrà già in onda questa sera dopo la messa online alle 19.30. vi consiglio soprattutto di avere anche l'abitudine dopo aver visto i miei video naturalmente la sera di guardare le varie pillole che andranno in onda su il vaso di Pandora. Questa settimana come vi ho detto ospita il dottor Lombardini imperdibile ma anche nelle prossime settimane vedrete avremo ospiti di primissimo piano quindi non perdete questa occasione. A presto quindi e a domani con un video di carattere finanziario.